Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Questa settimana ci sono stati alti e bassi, ma poi in fin dei conti la situazione è quasi identica a quella di sette giorni fa, quantomeno a livello di mercato, quantomeno a livello di prezzi. Che sia la calma prima della tempesta, questo cercheremo di capirlo in questo episodio, anche perché ci sono delle novità a livello fondamentale molto importanti, principalmente legate al discorso dell'ETF spot proprio su Bitcoin e in alcuni casi anche su Ether. Qui sono su coin360.com dove appunto il prezzo è rimasto invariato con un meno 0.54% rispetto al lunedì scorso su BTC e meno 1.2% su ETH, il resto più o meno segue con un rialzo in verde scuro per quanto riguarda la moneta di Telegram Ton con un più 24% in quanto si sta sviluppando parecchio a livello di ecosistema all'interno di uno dei social più importanti, che stanno integrando diverse funzionalità anche per la gestione degli NFT proprio nell'app Telegram e un certo tipo di applicazioni legate al mondo appunto degli asset digitali univoci non fungibili appunto e trasferibili. Comunque andando poi sul generale, sul mercato, capitalizzazione che rimane superiore ai 1000 miliardi di dollari con una dominance di BTC al 48.4% ed ETH al 18.8%, praticamente è cambiato poco o nulla. Fear and greed index al 35% quindi siamo ancora in una fase di paura. Qui il grafico ci fa vedere che c'è stato un rialzo settimanale, andiamo a vedere meglio nella finestra temporale settimanale appunto, con questo che in altre occasioni è stato denominato un Bart Pattern, ossia la testa di uno dei personaggi più famosi dei Simpson. Infatti qui il prezzo è andato a salire molto in alto e vedremo il perché è la notizia principale di questa settimana, addirittura toccando i 28 mila dollari in poco tempo per poi tornare sullo stesso livello. Un mese fa il prezzo era più alto, già faceva vedere un valore più alto dei 28 mila, circa 29 mila dollari, mentre l'andamento annuale ci fa vedere un trend positivo, infatti l'anno scorso ci trovavamo ad inizio settembre verso i 19 mila e 800 dollari, con poi un ribasso ulteriore arrivato nella fase di novembre dopo il tracollo di FTX. Anche questo è un qualcosa che torneremo a vedere in questa settimana, in questo episodio del Crypto Monday. Ma prima di ciò andiamo sull'analisi tecnica, molto brevemente sulla coppia BTC-USD su mercato Coinbase. Ogni candela rappresenta un giorno di transato e qui vediamo che le due medie mobili si stanno avvicinando, quindi quella che è la media più veloce, quella degli ultimi 50 giorni qui in arancione, sta andando verso la media in verde. Adesso potrebbero avvenire praticamente due cose, una è l'incrocio verso il basso, quindi questo rappresenterebbe un death cross, un indicatore molto pericoloso per quanto riguarda il trend più allargato, quindi di medio periodo del mercato. L'ultima volta che si sono incrociate le medie è stato il 6 febbraio con un golden cross, ossia l'evento contrario, quando la media mobile più veloce incrocia a rialzo, quella più lenta, a 200, e in questo caso abbiamo visto un periodo prolungato, infatti, di rialzi, come visto nell'annuale. C'è stato un trend rialzista molto importante. In questa ultima fase, con questa lateralizzazione, ha permesso alla media mobile semplice degli ultimi 200 giorni, quella più lenta, di andare verso il rialzo. Nell'ultimo periodo, quindi praticamente nell'ultimo mese con questo ribasso, la media a 50 potrebbe toccare. Adesso, se il prezzo dovesse tornare verso l'alto, potremmo anche vedere un rimbalzo di questa media arancione su quella verde, in quel caso una ripartenza. Dipenderà un pochino da quello che succederà a livello di fondamentale, un po' come le persone reagiranno, quindi come il mercato e i trader reagiranno a questa lettura. Adesso, qualsiasi analista che si basa solamente sull'analisi tecnica avrà la sua teoria e sarà lì pronto a giustificare quello che è un andamento non prevedibile con tutte le traiettorie e i disegni del caso. Ma ovviamente, poi, solo chi avrà ragione farà vedere quello che ha scritto e qualcuno ci prenderà. Il fatto e la realtà è che qui non possiamo davvero sapere quello che succederà. Da qui ai prossimi mesi, in questo finale dell'anno, quantomeno a livello di prezzi, dobbiamo cercare di capire quello che succede analizzando il tutto, sia a livello di movimentazioni on-chain, sia a livello di analisi fondamentale, che poi è quella che su lungo periodo detta davvero i trend. E qui vediamo che comunque, a livello proprio di supporti e resistenze, siamo sempre allo stesso punto, con un supporto ai 25.000, essendo una cifra tonda, troviamo molte posizioni su questo livello, quindi crea un supporto a eventuali vendite, e poi una resistenza che in questo momento potrebbe essere proprio quella della media mobile a 200, e quindi i 27.500 dollari, che poi è il livello che più o meno non si è riuscito a superare proprio durante questa settimana, a seguito della notizia che ovviamente è stata manipolata sul mercato, ossia ci sono state movimentazioni improvvise, con volumi in spike improvviso, proprio a seguito di questa notizia, ma poi il tutto è tornato su volumi molto bassi, come stiamo vedendo in questo momento. Oggi tra l'altro è giornata festiva per quanto riguarda il Nasdaq, per quanto riguarda la borsa americana, quindi non vedremo un impatto portato dal mercato tradizionale. Questo lunedì 4 settembre, tutto ripartirà domani per vedere quel tipo di influenza. Per quanto riguarda le monete depositate su iExchange, c'è stato un piccolo rialzo, lo vediamo qui, proprio durante questa settimana, segnale negativo che poteva infatti far prevedere che quello spike visto a metà settimana non sarebbe perdurato. Infatti c'è stato appunto quel rialzo dato da quella notizia, come se fosse un'esca, una trappola, perché poi in realtà c'è stato un grande deposito di Bitcoin tutto insieme, che ha fatto aumentare la percentuale dall'11.59% all'11.68% di tutti i Bitcoin circolanti depositati su Exchange e appunto una vendita. A questo punto sembrerebbe tornare verso il basso, questa è la traiettoria che sta disegnando in questo momento il grafico, dovremmo vedere se sarà così. In quel caso potremmo avere più possibilità di rialzo del prezzo. Se invece vedremo nuovi depositi su Exchange proprio da dati on-chain, probabilmente il prezzo è destinato a scendere, le medie sono destinate ad incrociarsi e il trend destinato pian piano a tornare verso questa coda, questa fase finale, a mio modo di vedere, del bear market, quindi su livelli più basi, chissà se verso il bottom. Questo ancora non è facile dirlo. Intanto, quali sono queste notizie di cui sto parlando? Quella principale, quella che ha fatto rialzare il prezzo e fare vedere quello spike verso 28.000 di metà settimana scorsa, è stata che Grayscale vince la causa contro la SEC in merito all'ETF Bitcoin Spot. Ossia la Corte d'Appella ha dichiarato che la decisione della SEC di respingere la richiesta di Grayscale è stata arbitraria e capricciosa. Cominciano ad arrivare queste sentenze, le abbiamo commentate anche durante l'ultima live andata in onda mercoledì scorso su CoinSquare, dove in questo ultimo periodo sembrerebbe essere cambiato il vento. Quando un anno fa ogni cosa andava contro al settore, adesso sembrerebbe che la voce del burocrate non sia più così forte o quantomeno comincia a essere messa in dubbio sulle sue decisioni. E qui il tentativo qual era? Quello di convertire il fondo, che ormai tutti conosciamo, GBTC, Grayscale Bitcoin Trust, in un Exchange Traded Fund Spot su Bitcoin. La SEC aveva respinto la richiesta di GPTC con la motivazione che gli strumenti non erano progettati per prevenire atti e pratiche fraudolente e manipulative e Grayscale ha quindi fatto causa e la decisione è stata annullata. Attenzione però perché questo non vuol dire che l'ETF verrà accettato, ma che aver respinto questa richiesta non è più valido. Quindi continua la fase di valutazione e lo scrutinio verso questo tipo di accettazione, che si unisce a tutta un'altra serie di ETF in attesa di essere approvati. È sicuramente un segnale importante perché in questo momento la SEC è sotto pressione, non può più inventare scuse per respingere eventuali accettazioni, la fila si è fatta abbastanza insistente e quindi c'è bisogno di una valutazione oggettiva, seria, realistica, che non può più lasciare spazio a scusanti così campati in aria, come sembravano essere quelle dell'ultimo periodo, degli ultimi anni. Inizialmente quasi sempre la scusa era quella della custodia non affidabile. Al momento quasi tutte le richieste sono basate sulla custodia offerta da parte di Coinbase. Essendo poi Coinbase una società quotata in borsa che ha passato determinate valutazioni proprio per fare quel passo, a quel punto quella scusa lì, quella di valutare la custodia come non idonea, non è più valida. Adesso ci sono altri tipi di giustificazioni, come ad esempio strumenti che non sono progettati per prevenire atti e pratiche fraudolente e manipolative, ma anche queste sono molto leggere perché se ci pensiamo, ad esempio esiste già un ETF per i futures su Bitcoin e non cambia il discorso se parliamo di azioni fraudolente e manipolative, anzi su un derivato queste sono potenzialmente anche più pericolose, quindi stiamo parlando di un qualcosa che difficilmente regge e infatti è stato bocciato. In ogni caso, perché poi c'è stato quel calo? Perché questa risposta, questo contrordine per quanto riguarda quella respinta, aveva riacceso le aspettative e le speranze, visto che sul finale del mese di agosto, il 31, erano attese determinate decisioni su altri ETF, quindi tutto insieme il mercato ha fatto una scommessa oppure ha creato un'esca, come dicevo prima, proprio per chi sperava nell'accettazione di eventuali ETF, cosa che comunque viene già scontata dal mercato, quantomeno istituzionale in anticipo, questa è una cosa che voglio dire prima, cioè per chiunque credesse di poter fare il trader retail seguendo le notizie, così come sto facendo io, quindi in ritardo, questo è sicuramente giocare contro il banco in modo totalmente svantaggioso, perché quando qualcosa deve avvenire e avviene, di solito i player principali, quelli che davvero vincono sul mercato, ne approfittano in anticipo, quindi se davvero c'era nell'aria o comunque si cominciava a sapere, si fosse saputo che uno degli ETF o tutti questi ETF potevano essere approvati al 31 agosto, sicuramente il prezzo avrebbe cominciato a crescere in anticipo e non così con una fiammata data da un mercato abbastanza retail o comunque gestito da chi voleva approfittare dei retail e non in modo prolungato, quindi avremmo visto il tutto sicuramente in un altro modo e infatti poi al 31 agosto, quando gli ETF, Wisdom3, Invesco, Galaxy, Valkyrie, Vanek, Bitwise e Fidelity sono stati ulteriormente posticipati, a quel punto il prezzo è tornato a scendere. Ecco, spiegato l'andamento di questa settimana, non voglio dire che il prezzo è stato condizionato da queste notizie, come in tanti tendono a interpretare da quando faccio questo tipo di aggiornamenti, ma che c'è chi è in grado di approfittare di determinate notizie che poi non portano davvero un cambiamento sul fondamentale per manipolare in un modo abbastanza semplice e veloce il mercato così da creare quel rumore che poi effettivamente se noi dovessimo togliere dal grafico non cambierebbe nulla. Lo abbiamo visto, il prezzo è identico a quello di sette giorni fa, niente è cambiato, ma intanto c'è stata una grande manipolazione e uno spike nella settimana del mercato. Spike probabilmente non prevedibile, difficilmente qualcuno poteva immaginare quello spike e quelle sono le cose che fanno più male ai trader, perché poi il prezzo sale, probabilmente porta in una certa condizione le proprie posizioni, fanno saltare stop loss o take profit e poi si torna di nuovo nella posizione di partenza, spesso con liquidazioni molto molto pesanti. Cosa succede adesso a livello fondamentale? La SEC avrà altri 45 giorni per esaminare la proposta di modifica della norma che consente le quotazioni degli strumenti di investimento, dando così al regolatore fino a ottobre per approvare, negare o rimandare una decisione. Considerate però che questa non è l'ultima fase decisionale, ci sono altri passaggi prima dell'accettazione o della respinta definitiva. Ormai la lista, come vi dicevo, è molto lunga, ne abbiamo già letti, si uniscono a questi anche BlackRock e ArchInvest e qui probabilmente le date si porteranno come preventivato verso gennaio o oltre, quindi nel 2024, quando ci sarà il momento chiave per la decisione. Infatti i molti, e me compreso, considerano il 2024 l'anno chiave ancora una volta per questo mercato, non solo per questo discorso, ma anche perché cambiano i fondamentali a livello di tokenomics proprio su Bitcoin con l'Alvin. Le due cose messe insieme, quindi una domanda davvero importante che potrebbe scattare una volta approvata questa serie di ETF, unita ad un'offerta, ad una nuova offerta dimezzata per via dell'Alvin, potrebbe portare quel famoso supply shock di cui ho spesso parlato, per il quale abbiamo analizzato tutto il percorso durante il bear market. Intanto c'è però anche chi ritira il proprio ETF, infatti Bitwise, uno dei più storici da questo punto di vista, uno dei primi ETF ad essere stati richiesti, è stato ritirato a livello di domanda. Sembrerebbe proprio che, nonostante il discorso grayscale che abbiamo visto, Bitwise stia rivalutando la propria strategia. C'è una dichiarazione che racita Il fondo cerca di fornire agli investitori una rivalutazione del capitale, non vi è alcuna garanzia che il fondo raggiunga il suo obiettivo di investimento. Questo lo dice il CEO, il Chief Investment Officer di Bitwise, in una intervista a Bloomberg. In ogni caso il fondo non intende vendere o niente è stato venduto a seguito di questa nuova decisione. Come vi dicevo comunque la lista rimane quella, la terza sessione di scadenze della SEC sarà a gennaio, oppure ci sono le prossime date, quindi quella dopo, diciamo quella di ottobre, ci sono poi altre date di decisioni finali che saranno a marzo, aprile e maggio in cui arriva anche appunto la decisione su BlackRock e consideriamo che proprio a maggio del 2024 appunto arriverà anche l'Alvin. Vi sembra troppo tempo da attendere, magari dovremmo vedere ancora ulteriori ribassi. Qui intanto sto facendo vedere il prezzo in euro su questa schermata. Beh, l'inverno nel mondo cripto è solitamente abbastanza lungo così da scoraggiare proprio tutti i turisti che si sono presentati nel periodo di bull market. In molti ormai già hanno lasciato questo settore e queste sono proprio le fasi in cui chi ha capito di cosa stiamo parlando ha la maggiore possibilità di avere successo poi in futuro perché non è facile questo settore effettivamente. Non è facile neanche fare l'holder come stiamo vedendo. C'è una notizia che arriva a livello di fondamentali nel discorso, nel mondo del Web3 invece. Qui inizierò un pochino a distinguere le due categorie così da far capire anche meglio le distinzioni che si stanno creando all'interno di questo ecosistema tra tutto ciò che riguarda più le currency con Bitcoin e la grande battaglia che c'è sulla politica monetaria e quello che sta succedendo a livello di rivoluzione del Web con il cosiddetto appunto Web3, Smart Contract e tutta la programmabilità e le applicazioni decentralizzate che si stanno creando dove Ethereum ovviamente comanda e guida proprio questo settore sia per capitalizzazione ma soprattutto per codice utenti e diffusione della sua Ethereum Virtual Machine e proprio di questo voglio parlare oggi perché MakerDAO, una delle dApp più importanti dell'ecosistema IVM è avviatrice tra le altre di quello che oggi chiamiamo la DeFi la finanza decentralizzata perché qui parliamo delle basi della DeFi proprio con MakerDAO e DAI nasce il concetto di collaterale nasce il concetto di lending, di collateralized debt positions e tutto ciò nasce proprio su Ethereum la cosa che ha sconvolto, che ha fatto stupire un po' tutti nel settore è stata la dichiarazione di Rium Christensen uno dei co-founder di MakerDAO nel dichiarare il passaggio del protocollo a livello proprio di funzionalità di smart contract su una blockchain fork di Solana quindi un passaggio verso un ecosistema diciamo Solana Codebase basato su codice di Solana questa nuova blockchain che nascerà proprio con MakerDAO chiamata New Chain è parte della quinta e ultima fase chiamata Endgame per MakerDAO quindi un grande aggiornamento che era stato annunciato a maggio e questa fase durerà per ulteriori tre anni così dicono questa ultima fase appunto prevederà il passaggio delle funzionalità del protocollo su una blockchain che a detta del co-founder si presta meglio a livello di qualità tecniche per quello che vogliono fare perché è ingenerizzata per avere tutti i benefit e prevenire quindi quelle congestioni e quegli alti costi che abbiamo visto spesso sull'EVM in più l'ultimo periodo in cui ci sono stati quei bottlenecks quindi quelle congestioni e tutte quelle problematiche su Solana hanno permesso anche un ulteriore miglioramento da certi punti di vista in più ci sarà appunto questo fork che prenderà le basi buone e cercherà di ottimizzare ulteriormente qui ovviamente Solana riprende le dichiarazioni si vanta tra virgolette appunto della resilienza che c'è stata nell'ultimo periodo soprattutto a seguito del collasso FTX sappiamo di quanto FTX sia stato legato al protocollo Solana e di quanto sia stato importante nella sua fase di bootstrapping per quanto riguarda sia la gestione dei fondi e l'holding di tanti token nei fondi appunto gestiti da FTX e tutti i market maker legati a FTX ma anche proprio per un legame che c'era tra la fondazione l'exchange di criptovalute fallito lo scorso anno ovviamente è una scelta discutibile quello che rimane comunque qui per far capire quello che sta per succedere che i token maker rimarranno comunque su Ethereum così come rimarrà Dai su Ethereum anche perché la governance è nata lì e rimane lì difficile poi spostare la governance da una rete all'altra quello che possiamo leggere da questo passaggio è sicuramente un passaggio importante qui non lo nego sapete è difficile essere obiettivi super partes quando comunque si ha una certa visione voglio dirvi la mia ovviamente mi ha stupito questa decisione di MakerDAO che comunque ripeto è una delle colonne portanti da DeFi soprattutto su Ethereum mi stupisce poi la scelta perché comunque sia anche a seguito delle dichiarazioni dello stesso Christensen è palese di come gli utenti ad oggi siano su EVM e non su Solana evidentemente c'è appunto una qualifica per quanto riguarda l'aspetto tecnico e ingegneristico con cui è stata strutturata la rete quindi c'è da riconoscere questo aspetto per quanto mi riguarda tutto ciò che si sta facendo nell'ecosistema EVM secondo me non giustificherebbe mai il lasciare quell'ecosistema lì e quindi qui si sta interpretando la cosa come un qualcosa di conflittuale a mio modo di vedere è il primo passaggio di tanti per il quale vedremmo sempre di più una interoperabilità tra diverse reti quindi magari lo sviluppare determinate soluzioni tecnologiche dove la tecnologia permette delle performance migliori vedi Solana in questo caso con comunque un'interazione con ad esempio una governance e dei token che comunque risiedono su una blockchain più sicura più consolidata come quella di Ethereum la scelta poteva andare anche magari su dei layer 2 hanno valutato la cosa non sufficiente per quello che devono sviluppare adesso nel dettaglio non so bene questa endgame che cosa prevederà scelta molto molto interessante non la prende altrettanto bene Vitalik Buterin questa è un'altra notizia della settimana che sembrerebbe aver scaricato venduto tutti i suoi Maker che erano ben 500 sapete di come Maker non abbia una un circolante elevatissimo anzi la supply di Maker è molto molto contenuta lo vediamo qui Maker che vale 1.102 dollari ha un circolante di neanche un milione un milione 977.631 Maker con una max supply a un milione e 5.000 e qui appunto è molto importante quello che è successo a livello onchain ancora una volta i primi a far notare questa cosa sono look onchain dove fanno vedere che uno degli address controllati appunto da Vitalik ha venduto tutti i suoi 500 Maker incassando circa mezzo milione 520.000 dollari e rimuovendo tutta la sua posizione in questo protocollo quindi evidentemente la scelta non è stata gradita dal cofondatore di Ethereum direi che da parte sua ci può anche stare effettivamente è libero poi di gestire quello che vuole e se la governance poi anche se rimane su Ethereum dovrà essere gestita per valutare delle scelte su una blockchain di cui comunque non vede un grande futuro che comunque non è VM ci sta che si vuole liberare di quel tipo di potere decisionale tra l'altro da qui vediamo qual è l'holding di Vitalik nei suoi vari indirizzi e qui questi 520.000 dollari montano circa lo 0,12% del suo portafoglio da 407 milioni di dollari in asset digitali e varie criptovalute con tutti i vari token e gli ether che possiede che poi nel tempo sono andati a crescere un po' tutti considerate che tanti sono stati semplicemente donati a degli indirizzi di Vitalik in fase iniziale alcuni protocolli andavano a donare quasi fosse un pozzo di desideri a determinati indirizzi poi magari quei protocolli hanno visto una crescita soprattutto nell'ultimo bull market e sono risultati essere dei capitali importanti altre notizie della settimana sono quelle del riacquisto da parte di Robinhood delle proprie azioni che erano state confiscate da Sam Bankman Freed quindi l'acquisto di 55 milioni di azioni per 606 milioni di dollari quindi queste erano in possesso di SBF adesso tornano a Robinhood che le riacquista attenzione perché Robinhood broker retail per azioni ma non solo adesso anche crypto sembrerebbe avere il quinto maggior wallet di Ether di ETH settimana scorsa avevamo visto anche di come si è in possesso del terzo wallet del terzo portafoglio bitcoin più grande al mondo e adesso scopriamo che è anche il quinto wallet di Ether più grande al mondo con più di 2,5 miliardi di dollari quindi anche Robinhood fa sul serio per quanto riguarda la sua partecipazione e il suo coinvolgimento nel settore intanto qui sulla destra vediamo questa notizia NFT Fest Lugano il grande evento dedicato a NFT e Web3 è alle porte infatti è proprio questa settimana che cade l'NFT Fest Lugano di cui abbiamo parlato a lungo sia sul mio canale che su quello di Coinsquare e vi ricordo ancora una volta di come tramite Metaswap e la DeFi Foundation la fondazione dietro Metaswap si stia organizzando un hackathon proprio durante l'evento questo al 9 settembre 2023 l'hackathon permetterà di avere i biglietti per accedere all'evento e in più ci sarà la possibilità di vincere 5000 USDT la data è il 9 di settembre siamo arrivati praticamente alla scadenza possibile per potersi registrare se sei uno sviluppatore Web2 barra Web3 hai piacere di partecipare a questo evento anche per conoscerci ci metteremo alla prova appunto su una challenge legata proprio all'ecosistema DeFi siamo agli sgoccioli per l'iscrizione e per la partecipazione per potersi iscrivere per poter prenotare la propria partecipazione abbiamo creato un form qui Metaswapackathon subscription form lo lascio in descrizione legato proprio a questo articolo su blog ufficiale quindi vi richiamo faccio un ulteriore call to action perché ormai davvero ci siamo questa settimana partirà l'NFT Fest che non sarà solo NFT ma appunto anche e tanto Web3 e DeFi a proposito di questo c'è una novità che arriva proprio lato sviluppo ma sarà molto importante cioè non ascoltate queste notizie in modo disinteressato se non siete degli sviluppatori perché tutto ciò che avviene nel mondo dello sviluppo ovviamente impatta in modo prepotente su tutti quanti anche sui holder anche sui trader e anche sugli investitori perché questo mondo soprattutto quello di Web3 del settore VM è legato allo sviluppo tecnologico agli sviluppatori che cosa arriva? Arbitrum annuncia Stylus è un nuovo strumento per poter sviluppare su Ethereum Virtual Machine sapete Arbitrum o Arbitrum è un layer 2 di Ethereum completamente compatibile con l'Ethereum Virtual Machine quindi qualsiasi codice scritto su Arbitrum potrebbe essere scritto e deployato anche su Ethereum e viceversa in questo caso questo strumento chiamato Stylus consentirà agli sviluppatori di usare linguaggi di programmazione classici per scrivere degli smart contract come ad esempio Rust C C++ e questi sono ovviamente molto più user friendly per tutti gli sviluppatori perché uno dei filtri maggiori e dei blocchi maggiori che sia in questo settore è avere su Ethereum un linguaggio di programmazione specifico ossia Solidity Solidity non è un linguaggio di programmazione utilizzato altrove al di fuori di Ethereum è molto simile per sintassi a JavaScript cioè ricorda molto quel tipo di codice ma poi a livello funzionale a livello logico diverso ovviamente stiamo parlando di smart contract è molto vicino a scrivere codice di basso livello perché poi una volta che si scrive uno smart contract e viene deployato non c'è un back fixing se non un deploy nuovo del contratto quindi stiamo parlando di qualcosa che va capito bene ma ovviamente il linguaggio di programmazione va anche imparato da zero nel caso di Solidity mentre invece se fosse possibile scrivere e usare quella logica scrivendo con un linguaggio che già conosciamo quindi immaginate invece di imparare una nuova lingua parlare la vostra lingua madre ecco il tutto sarebbe molto più semplice e in più questo nuovo strumento consentirebbe anche di velocizzare le fasi computazionali di 10-15 volte questo è quello che dice il cofondatore di Arbitrum di Stylus e soprattutto quindi tutti i sviluppatori Rust potranno sviluppare i loro smart contract in modo molto più semplice cosa potrebbe portare questa cosa? qui ci fa un breve esempio giusto per far capire un po' a tutti potrebbe addirittura aprire la possibilità di essere compatibile con la criptografia dell'iPhone ad esempio perché l'iPhone usa una firma digitale differente come standard rispetto a quella di Ethereum ecco questo nuovo supporto che rende le cose più compatibili permetterebbe di rendere il tutto appunto compatibile senza spese foglie a livello di gas e quindi potremmo anche immaginare in futuro un wallet integrato ad esempio in iPhone e VM quindi un wallet compatibile con Ethereum layer 2 tutte quelle blockchain Ethereum virtual machine compatibili magari sbloccando il nostro wallet con il nostro Face ID o magari pagare transazioni proprio tramite Face ID questo è un esempio di quello che può portare un certo tipo di compatibilità con il mondo del web 2 definiamolo così e il passaggio verso i web 3 e i vari punti che si stanno creando questa notizia molto interessante a livello fondamentale capisco che non è per tutti ma ci fa capire di come in ottica futura oltre al discorso ETF Spot e Alvin che riguarda un po' molto di più il mondo della finanza c'è un mondo parallelo quello della programmazione quello dell'ingegneristica quello dello sviluppo del web che si porta avanti con tutta una serie di strumenti e infrastrutture che al momento vedono come leadership ethereum e tutte le altre appunto abbiamo parlato oggi di solana e così via intanto questa settimana X l'ex twitter di Elon Musk ottiene la licenza statale per implementare i pagamenti in cripto e già tutti ovviamente speculano sull'inserimento dei pagamenti in criptovalute secondo me passerà prima del tempo nonostante il regolatore abbia concesso questa licenza e i pagamenti online l'approvazione consentirà a X di custodire trasferire e scambiare valute digitali questo però secondo me arriverà solamente a seguito dell'inserimento prima di pagamenti tradizionali anche perché ex fondatore di paypal probabilmente l'azienda stessa baderà prima ai numeri e a quella che è l'utenza tradizionale anche perché la fase non è quella giusta per lanciare un sistema di pagamenti in cripto questa è la mia visione poi magari Elon Musk stupirà tutti di nuovo magari prima arriverà un sistema simil paypal o proprio paypal magari chi lo sa e poi l'inserimento comunque che prima arriverà dei pagamenti cripto chissà appunto se tutti i fan di doge vedranno la meme coin più famosa al mondo proprio inserita come sistema di pagamento all'interno di uno dei social più utilizzati al mondo call to action importante questa settimana qui parlo da co-founder di Metaswap sta arrivando l'MIP4 che cos'è? Metaswap Improvement Proposal numero 4 proposta fatta dalla DeFi Foundation appunto stessa fondazione che sta organizzando l'hackathon all'NFT Fest di cui parlavamo prima si vuole espandere la DAO in che modo? al momento su Metaswap tutti i token holder di XMT partecipano alla governance quindi possono fare proposal e possono votare per altre proposal come ad esempio questa quello che si vuole fare è espandere questa DAO includendo uno strumento chiamato snapshot credo che in molti lo conoscano già le più grandi DAP i più grandi protocolli e VM già sono su snapshot da tempo un po' tutti praticamente e qui si possono fare dei sondaggi ad esempio andiamo proprio su Aave uno dei più grandi protocolli DeFi vediamo diverse proposal chiunque con il proprio wallet connesso può creare una nuova proposal oppure può votare per le proposal attive ecco questo viene fatto off-chain l'unica cosa che avviene on-chain è la lettura di quanti token o monete possediamo nel nostro wallet per poter partecipare una volta creata la proposal questa avviene appunto su snapshot in modo da non scrivere la transazione sulla blockchain poi volendo la governance potrebbe essere legata appunto a decisioni on-chain oppure no quindi per questo motivo questi tipi di decisioni che sono decisioni più leggere che non comportano un deploy o una scrittura on-chain ad esempio un nuovo rilascio di contratti o modifiche su vecchi smart contract potrebbero essere fatti su questa nuova piattaforma ovviamente però per poterlo fare c'è bisogno che la DAO attuale che risiede su Ethereum tramite il token XMT appunto su Ethereum accetti e approvi questa espansione per così dire quindi che cosa succederà se questa proposal verrà accettata e per tutti i token holder questa è una call to action per andare a vedere quando questa proposal partirà tra oggi e domani più domani credo ci saranno poi tre giorni per votare come sempre se questa proposal verrà accettata il voto sarà sì al quorum a quel punto ci sarà la possibilità di fare delle proposal e di votare le proposal su snapshot in base ai token che avete su Ethereum senza più pagare gas fee il problema era proprio quello su Ethereum per fare tante proposal e per questo la governanza è molto rallentata proprio dai costi alle volte si è arrivati addirittura a 25 dollari durante il bull market proprio per fare un voto così per tutti i vari sondaggi per tutte le varie decisioni più leggere ci sarà un nuovo strumento in caso questa proposal dovesse appunto poi passare spesso arriva anche la domanda arriveranno altre smart pool su Binance facciamo qualcos'altro su BNB Chain ecco tutte queste proposal potrebbero avere una fase preliminare decisionale da parte della DAO quindi della governance decentralizzata dei token holder proprio su uno strumento come questo che sarà gasless ma rispetterà le stesse regole che ci sono nella DAO rilasciata sui contratti di Metaswap che ricordo essere proprio una DAO con smart contract dedicati non è una DAO adottata o forcata da qualcos'altro è stata la prima cosa rilasciata sui contratti e il motivo per cui esiste il token XMT velocemente come si fa a votare basterà andare sulla DAAP ovviamente rete Ethereum dove risiede la governance andando su governance si troverà appunto una volta partita l'ultima proposal queste sono le ultime tre fatte poi ci sarà una nuova proposal proprio quella per andare su snapshot una volta che saremo connessi con il nostro wallet ci sarà la possibilità di votare sì o no e attenzione perché per tutti i token holder che non hanno mai fatto il self delegate vi consiglio di connettervi prima che parte la votazione proprio per avere lo snapshot che conteggia il proprio potere di voto lo vedrete appena connettete ci sarà la richiesta per fare self delegate che è propedeutico indispensabile per fare la votazione rimanendo sull'argomento ultima notizia della settimana è proprio quella della partenza di una nuova swap competition chiamata OP boost vi ricordo metaswap essere stato deployato proprio su Optimism quindi layer 2 su Ethereum con Optimistic Rollup e dopo aver conseguito dopo aver ottenuto un grant da Optimism ci sono degli OP in distribuzione per chiunque apre degli swap per chiunque fa liquidity providing c'è un nuovo boost perché sono stati depositati nelle pool una nuova fase una nuova manciata di OP proprio ricevuti da Optimism Foundation e quindi per tutti gli swappers tutti i nuovi swappers ci saranno dei premi addizionali oltre alla partecipazione alla nuova swap competition che durerà per tutto il mese di settembre date un occhio alla DAP direttamente questa volta in rete Optimism per questa settimana è tutto ci vediamo all'NFT Fest ci vediamo all'Hackathon per chi parteciperà questa settimana non ci sarà la consuetta live del mercoledì su CoinSquare perché tutto il team CoinSquare sarà poi presente all'evento di Lugano in ogni caso ci vediamo il prossimo lunedì per ulteriori aggiornamenti proprio su tutto quello che succederà questa settimana e quello che sarà poi questo evento ticinese buona settimana a tutti buon Crypto Monday di Lugano Grazie a tutti.